Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Saruk 213x130. Questi tappeti sono realizzati in una vasta regione attorno alla città di Saruk nella parte occidentale della Persia centrale. Sono normalmente rossi e blu, vengono prodotti con molti diversi motivi ma presentano spesso un medaglione centrale e una cornice chiaramente definita. La lana utilizzata è di alta qualità e lucida, i tappeti sono compatti e resistenti all'usura. Lavorazione, hanno dato a mano. Spessore circa. 8 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.